Benvenuti a questo nuovo video nel quale, può sembrare strano, ma vi voglio presentare brevissimamente un gioco. Ebbene sì, anche se io non sono per niente un giocatore e lungi da me l'idea di farmi passare per un vero giocatore quando ci sono dei veri giocatori. In circolazione e non certo quelli come me che molto, ma molto sporadicamente e occasionalmente aprono un gioco per divertirsi un pochino. Quindi non consideratemi un giocatore, però colgo l'occasione per mostrarvi una caratteristica di un gioco che può essere interessante, almeno io lo trovo tale, e che si può giocare su qualsiasi PC anche un po' deboluccio come il mio, che sicuramente il mio portatile non è fatto per giocare. E io non essendo un giocatore l'ho acquistato proprio per fare altro, diciamo, cioè con l'intenzione di fare altro, sicuramente non di giocarci. Però mi sono, come dire, lasciato affascinare da un gioco che si chiama, molto noto, che si chiama Minecraft. Sicuramente molti di voi lo conoscono molto, ma molto meglio di me. Anzi, diciamo pure che io non lo conosco, riesco malapena a muovermi all'interno di questo gioco, però mi affascina il fatto che Minecraft è un gioco non, come dire, non a percorso fisso. Ecco, ogni partita di Minecraft è diversa dall'altra e richiede impegno da parte del giocatore, quindi appunto ogni volta l'ambiente che si inizia a giocare è diverso dall'altro. E quindi mi piace anche per questo, mi piace perché è un gioco relativamente tranquillo, nel senso che ci si può anche ragionare cosa fare e non fare, quindi un po' che segue le mie caratteristiche, ecco, aderisce alle mie caratteristiche. Ma, ripeto, e sottolineo, non voglio, così prendetela come una battuta, offendere nessun vero giocatore, io non mi considero tale, non sono un giocatore. Però ho installato e acquistato Minecraft. Cosa succede però? Ecco, allora, apriamo pure Minecraft, eccolo qua. Minecraft V è un bellissimo gioco, però è scritto in linguaggio di programmazione Java, è tutto basato su Java che è piuttosto pesante come linguaggio e come ambiente. Quindi il mio PC che, come ho detto, è deboluccio, quando si entra nel gioco, dimostra tutta la sua debolezza, perché non è un PC fatto per giocare. Ecco. Voilà, io entro in Minecraft giusto per mostrarvi che cosa intendo. Adesso non so neanche se questo mondo, in questo mondo, io sia già morto o meno, o se posso almeno muovermi. Vediamo un po'. Ecco qua. Adesso, oltretutto, sto registrando anche il video, quindi sarà ancora più lento. Vedete cosa ci ha messo a creare l'ambiente. Vedete com'è a scatti quando mi muovo. Vedete come è particolarmente lento nel reagire. Questo perché? Perché il mio PC, appunto, è debole, non è fatto per giocare, ma in Minecraft richiede molte risorse, essendo anche costruito con linguaggio Java. Ecco, mi sembra che... Ecco, F3 mostra certe caratteristiche tecniche di utilizzo del PC. Vedete come va a scatti, non è per niente fluido come gioco. E vedete qua sopra, in cima, non posso muovere il mouse perché nel gioco non si può. Comunque in alto a sinistra, dove c'è la versione Minecraft 1, 4, 5, tra pareti c'è 7, 3, 4 fps, quindi frame per second. Ecco, mi sembra che un giocatore come si deve apprezzi il gioco se i frame, quindi le immagini al secondo sono, mi sembra, non so, più di 30, 40, 60 fps, figurati via come posso giocare con 5, massimo 10 frame al secondo quando non registro il video come adesso. Ecco, quindi avete capito il mio problema, cioè se il PC non è occupato a fare nient'altro riesco ancora in modo più o meno decente a giocare, ma sicuramente non c'è quella fluidità richiesta da un vero giocatore. Ecco, allora usciamo da Minecraft e avete visto cos'è il problema, quindi chi come me non ha un PC super potente acquistato apposta per giocare è un po' in difficoltà, ma volendo giocare comunque a un gioco con lo stesso principio di Minecraft, ma che permette di essere giocato anche su un PC debole come il mio, c'è un'alternativa open source, quindi a costo zero e non a pagamento come Minecraft, che non è la fotocopia gemella o non ancora la fotocopia gemella di Minecraft, ma che permette di giocare in modo molto simile o con gli stessi principi di Minecraft. Ecco, e si chiama Mindtest. Ecco qua, Mindtest. Lo vedete qui, parte con un'interfaccia diversa ovviamente, però quando si entra, quando si inizia a giocare, lo sta caricando, ecco vedete è decisamente molto più fluido. E vedete in alto a sinistra, sulla barra del titolo della finestra, vedete i FPS, quindi i frame per second, che variano, non vanno mai sotto praticamente i 20, i 20 frame per second. Ecco, vedete che io posso giocare con gli stessi strumenti, gli stessi principi, l'inventario e tutto, praticamente con le stesse cose, quasi con gli stessi scorciatoi da tastiera, quasi tutte di Minecraft. Vedete che qui mi ero già divertito a costruire un certo mondo, vedete anche con le scatole, insomma, con le scatole per depositare materiale, con le barriere, con le scale, tutto. Cioè si può costruire tutto, esattamente, praticamente uguale a Minecraft, quasi uguale, vedete, si può fare quasi tutto uguale. Ci sono anche i cartelli con la scritta, soltanto che non si vede la scritta direttamente sul cartello, ma viene in sovrimpressione. E quindi vedete che praticamente stiamo giocando con gli stessi principi di Minecraft, ma vedete che è 26-30 frame per second, è molto più leggero come gioco. Cioè quello che volevo mostrarvi è presentarvi questo gioco carino, questa versione, diciamo pure limitata, ridotta, senza tutte le possibilità di Minecraft, ma molto più leggero. Quindi anche il mio PC, vedete che sto registrando il video e in più sto giocando a Mindtest, però vedete come è fluido, cioè è decentemente fluido pur con un PC come il mio. Ecco, adesso posso uscire da Mindtest. Ecco, diciamo che allo stato attuale, dunque Mindtest è in sviluppo, anche Minecraft è sempre in sviluppo, però ha già raggiunto una certa maturità. Mindtest non è così maturo, in effetti non ha per esempio gli zombie, i nemici o non ancora, che possono minacciarvi. Voi potete tranquillamente costruire, fare tutto quello che volete, scavare dove volete, giorno e notte, senza particolari pericoli. Probabilmente arriveranno in un prossimo futuro, però avete visto la differenza. è molto più leggero di Minecraft. E questo perché è molto più leggero di Minecraft? Perché è costruito non con Java, ma con un altro linguaggio di programmazione, che è C++. e C++ è più leggero, è più snello, è più scattante. Ecco, io volevo mostrarvi, tra l'altro, come si installa Mindtest alla versione ultima. Quindi, fatemi entrare nel gestore degli archivi PPA, perché c'è un PPA. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', dov'è il Mindtest? Al momento mi sta sfuggendo, dov'è, dov'è, dov'è? Gimp, Mindtest, eccolo qua. Voi cercate in rete questo PPA o nell'archivio dei PPA in rete su Launchpad, cercate Mindtest e vi salterà fuori questo PPA da aggiungere. Questo perché in Ubuntu Software Center, senza fare nulla, trovate una versione di Mindtest già presente, disponibile, però non è proprio l'ultima versione. Quindi, man mano che lo sviluppo avanza, appare in questo PPA una nuova versione. Quindi, se volete la versione più nuova, più avanzata, aggiungete questo PPA, sennò potete anche semplicemente installare la versione che trovate nei repository ufficiali. Ecco, quindi niente di che, per questo video, era semplicemente per mostrarvi che anche con un PC parecchio debole, almeno per i giochi, perché va benissimo per tutto il resto, ma per i giochi è decisamente debole, non è un PC adatto, però c'è questa alternativa. Se vi diverte il tipo di gioco e il modo di giocare di Minecraft, ma non avete i mezzi tecnici sufficienti per supportare un gioco così pesante come Minecraft, avete un'alternativa in Mindtest. Eccolo qua, un bel gioco, e soprattutto leggero, adatto a una più ampia schiera di PC. Ecco qua, allo stato attuale è arrivato alla versione 0.4.4. Il sito di questo gruppo di sviluppatore di questo gioco, di questa alternativa a Minecraft, ripeto, open source, completamente gratuita, è questo. Quindi potete andare qui a curiosare sul sito Mindtest.net. Voilà, tutto qui. Sicuramente voi, o chi di voi che mi segue su questo canale e che è già un giocatore conoscerà già da una vita anche Mindtest, probabilmente non sarà sicuramente una novità, non ve lo voglio presentare come chissà quale scoop, perché proprio non è il mio ambito, come ho detto, quello dei giochi, però mi interessava mostrarvi appunto la differenza di pesantezza fra questa versione di gioco programmata in C++ e Minecraft programmata in Java. Avete visto la netta differenza di pesantezza del programma Java. Ho concluso. Spero, come sempre, che vi sia interessato anche questo video. Un saluto e alla prossima. Ciao ciao!